buonasera a tutti e ben ritrovati con il nostro trading club io sono andrea nesano lo so che di solito non esordisco io ma questa sera c'è il laboratorio operativo in spread trading quindi il nostro matteo lo stiamo tenendo bello carico per il primo laboratorio in diretta dell'anno quindi partiremo diciamo in questa sessione parlando un po delle opzioni ma non solo perché diciamo dal tema iniziale ci andremo poi a riallacciare sia diciamo con il nostro stefano corvi sul discorso volumi e poi anche con il nostro paolo zambaberi per il discorso beta trading in azioni venendo venendo subito alla nostra operatività volevo segnalare l'ingresso proprio negli ultimi istanti dell'operazione che abbiamo impostato ieri sul caffè adesso andiamo subito a vedere per chi c'era nel laboratorio in opzioni fondamentalmente avevamo fatto un bull put sul caffè tra l'altro ieri sera è stato fatto un piccolo errore per quanto riguarda le scadenze piccolo errore che poi rivedremo anche nella sessione indifferita del venerdì che comunque andremo registrare tra domani e venerdì nel primo pomeriggio piccolo errore determinato proprio dal fatto che molto spesso le opzioni sulle materie prime hanno delle hanno indicato delle scadenze che poi non sono quelle effettive per fare un esempio ieri abbiamo selezionato marzo ma in realtà scadeva febbraio invece oggi siamo andati a sistemare quindi a mettere la scadenza corretta che era per l'appunto quella di di aprile e a volte capita che certe scadenze le troviamo all'interno dell'option trader ma poi non compaiono all'interno del tasto combinazione questo non è un problema perché comunque andremo a vedere anche come aggirare questo questo piccolo impasse diciamo comunque sia il dato di fatto che resta che siamo entrati sul kc andiamo inserire l'intestazione di gruppo dove il premio per questa operazione è di 150 dollari il margine è di circa 600 dollari e il ROI in 45 giorni quindi questa è un'operazione che paga se la matematica è un'opinione il 25 per cento quindi continueremo a monitorarla anche nelle prossime settimane mentre JP Morgan ancora non siamo riusciti ad entrare però qui ovviamente come tutte le operazioni che facciamo o il nostro prezzo oppure nulla piccolo update sull'audi invece la situazione sta migliorando siamo sempre leggermente negativi ma nulla di preoccupante visto che oggi audi sta per l'appunto recuperando contro il dollaro americano quindi partendo proprio da da questo dalle valute volevamo dare un'occhiata anche un paio di situazioni che abbiamo lasciato un po indietro con l'inizio diciamo del nostro trading club di questo 2019 ovvero l'euro quindi mettiamo il continuous di marzo e poi anche il dollar index che è un po che non lo guardiamo vediamo un po dove ce lo siamo lasciato anche qui prendiamo il futures di marzo allora intanto piccola nota di analisi fondamentale alla fine dell'anno scorso ci siamo lasciati diciamo con delle proiezioni rialziste sia sull'euro che sull'oro un po per la debolezza del dollaro quindi per quanto riguarda l'oro soprattutto per una debolezza del dollaro per un'incertezza dei mercati azionari sull'euro invece auspicavamo una una salita non immediata chiaramente ma col passare delle settimane dei mesi perché comunque tenete conto che l'euro contro il dollaro penso sia il prodotto più scambiato proprio a livello di mercati finanziari quindi sono miliardi e miliardi i controvalori che passano ogni giorno quindi è difficile vedere un euro ecco che fa un 10 15 per cento in un mese di solito passano i mesi prima di vedere questi movimenti però sull'euro abbiamo una visione rialzista dettata dal fatto che comunque sia durante quest'anno per l'appunto ormai è terminato il quantitative easing si parla dopo diciamo il primo semestre di un rialzo dei tassi di interesse in europa e contestualmente anche un rallentamento diciamo dei rialzi dei tassi di interesse negli stati uniti quindi fondamentalmente questo scenario macroeconomico ci faceva predisporre un euro diciamo in risalita nei confronti del dollaro guardando il grafico invece possiamo vedere come in queste ultime settimane bene o male c'è una lateralità molto molto forte perché alla fine abbiamo un minimo 1 13 50 circa e un massimo in area 1 16 1 16 25 quindi sono praticamente un 2 per cento stiamo parlando di un 2 per cento che va avanti dal 23 di ottobre quindi sono tre mesi che siamo in un 2 per cento e al momento non sembra volersi molto schiodare da lì la visione diciamo da parte mia poi ovviamente siete liberi di portare anche le vostre analisi è passata da buy quindi da acquistare a neutrale perché perché comunque nel soprattutto con l'inizio dell'anno si è iniziato a vociferare anche per quanto riguarda l'europa per l'appunto con la banca centrale europea che non è così detto ecco che rialzeranno i tassi di interesse verso la fine dell'anno cosa che sembrava scontata a un certo punto dell'anno scorso questo perché perché stiamo assistendo a un rallentamento della crescita globale abbiamo parlato anche nel laboratorio operativo in opzioni ad esempio con gli stati uniti che stanno rallentando la germania che sta rallentando con tutta la zona euro persino la cina che comunque sta stampando dei 6 e 6 per cento annuali comunque sta rallentando rispetto agli anni passati ovviamente quindi andare anche a a chiudere diciamo questa questa politica espansiva da parte della bce potrebbe avere un contraccolpo sull'economia reale non indifferente quindi in questo momento diciamo che la situazione per quanto ci riguarda è una situazione di lateralità come sempre quando ci troviamo di fronte a un andamento estremamente laterale di un titolo quello che noi cerchiamo di fare con le opzioni di sfruttare il i vari momenti all'interno della condizione quindi per esempio quando il titolo torna verso 1 e 14 1 13 80 su quei livelli andiamo in genere ad impostare un bull put perché chiaramente avremo dei prezzi migliori sui sul sugli strike più più bassi quando invece lo vediamo tornare in area 1 15 1 16 allora andiamo ad impostare dei bear call quindi delle strategie non rialziste perché ovviamente riusciamo a prendere dei prezzi migliori da quel lato queste sono strategie che chiamiamo come iron condor spezzati e effettivamente questo sembra essere un buon momento per iniziare a dare un'occhiata anche all'euro cioè vedere che cosa ci offre l'euro al di sotto dei minimi precedenti in area 1 13 e 50 quando si lavora sui futures si può stare anche su scadenze un po più vicino in questo caso abbiamo marzo e ad esempio vediamo come già a prendiamo più strike così ne vediamo un po di più e allarghiamo il tutto vediamo che già in area 1 12 ancora meglio 1 11 e 5 comunque siamo 1 e 12 siamo a delta 18 1 11 5 siamo delta 14 eccolo qua volendo possiamo andare anche ad aprile comunque già qui 1 11 e mezzo inserendo magari un prezzo un pochettino più alto rispetto a quello che che vediamo adesso rispetto quello che ci offre il mercato è con l'occasione potrebbe essere potrebbe essere ghiotta perché così calcolandovela proprio su due piedi 1 11 e mezzo con 1 e 11 in questo momento un'operazione di questo tipo ci pagherebbe intorno ai 70 dollari e comunque il margine sarebbe intorno ai 300 dollari quindi sarebbe già adesso un'operazione piuttosto interessante questa andare a fare sull'euro volendo dicevo si può anche andare fino ad aprile se abbiamo un po più di pazienza ci possiamo anche spostare un po più là perché vedete arriviamo anche a 1 e 11 in questo caso anche se sì la differenza non è moltissima di premi quindi forse è meglio stare marzo però non andrei oltre aprile in questo momento perché a maggio sapete ci sono le elezioni del parlamento europeo che insomma potrebbero avere un impatto piuttosto importante è con i confronti dell'euro e ovviamente anche dell'euro contro il dollaro per chi se lo chiedesse ecco non ci preoccupa particolarmente la situazione della brexit perché la brexit va ad influire sul cambio euro sterlino oppure sterlina dollaro invece euro dollaro bene o male la situazione non dovrebbe andare a creare grossi problemi quindi per chi fa opzioni per chi ci stava pensando ecco un 11 e mezzo già è un buon un buon prezzo siamo piuttosto distanti se lo guardiamo anche in termini grafici è un'operazione che volendo ci può stare ovviamente stiamo parlando di pura analisi tecnica né più né meno quindi in quest'area qua come vedete siamo abbastanza distanti dai minimi precedenti e perché vi dico in di pura analisi tecnica perché ho chiesto a stefano che invito per l'opunto dire la sua di insomma di dare un'occhiata anche alla base ecco dei dei volumi in quell'area di 1 13 50 1 14 per capire se è un supporto puramente di analisi tecnica o magari c'è anche una concentrazione di volumi che ovviamente ci potrebbe aiutare nell'operazione sì ciao ciao andrea buonasera buonasera a tutti anche da parte mia come chi da un po ci conosce sa che non sono un grandissimo amante del reparto valutario ma per non tanto per attitudini ma proprio perché come giustamente ci diceva il nostro il nostro andrea insomma le valute sono molto influenzate anche da dinamiche macroeconomiche anzi sono quelle più influenzate e per quanto mi riguarda ecco che comunque faccio dell'analisi volumetrica un po la chiave di tutte quelle che sono le mie entrate mi scontro sempre con il fatto che il grosso di tutto il movimento di forex viene fatto ecco in otc quindi non regolamentato e quindi non tra virgolette tracciabile quello che ci rimane a livello di future che sono presenti sia in una versione normale come quella del ticker euro che muove un controvalore nominale di 125 mila sia quella in versione più ridotta che il ticker e 7 che è l'equivalente del del mini euro rimangono un po le bricio ecco giusto per darvi un'idea stiamo parlando del cross valutario più importante e segnaliamo una media di 120 mila scambi 150 al giorno circa un decimo di quello che muove lo standard impure ai livelli del gas come quantità di contratti scambiati quindi delle briciole per quello che è il mercato in più non tanto in senso assoluto ma quello che riguarda proprio questo trimestre ovvero la scadenza di marzo che mi sembra di capire che quella dove si concentrerà anche la strategia stiamo vivendo un po una situazione simile a quella che vi ho fatto vedere ieri sul caffè quindi è proprio insito della di questo strumento finanziario un movimento che non è che fa più 3 per cento meno 3 per cento sì ci sono delle forti oscillazioni in caso di annuncio dei tassi o situazioni relative a dinamiche macroeconomiche ma di per sé tendenzialmente il discorso è sempre più tranquillo quindi anche da un punto di vista di sto grammo volumetrico vediamo proprio che ci sia una pancia che fondamentalmente va a ricoprire qualsiasi area di prezzo da la parte bassa di 1 13 e 70 diciamo che un po i valori che sono stati toccati all'inizio proprio di questo 2019 sia la parte più in alta che più in alto che proprio quella della zona 1 e 16 dove ci sono queste tre giornate di baluardo proprio del una decina di giorni fa dove il titolo è stato ben respinto e da lì ha portato in una situazione ribassista che lo sta portando adesso nell'ultima settimana in questa zona di accumulo in area 1 14 e 10 1 14 e 40 quindi numeri alla mano andrea la visione è molto simile a quella che abbiamo visto sul caffè ovvero un titolo piuttosto compresso con dinamica ovviamente totalmente diverse però come struttura al di sotto ci si può lavorare piuttosto piuttosto bene sempre con l'incognita che con questi annunci del primo momento dei tassi poi no poi guardiamo in america poi no le elezioni europee ecco il mio consiglio spassionato lascio a te poi la scelta ovviamente di strike e scadenza fai un qualcosa piuttosto veloce a costo di incassare anche qualcosina meno ma rimanere tranquillo da possibili scenari macroeconomici non piacevolissimi ecco per il resto da un punto di vista di piazzamento ci sta tutto sceglierei più anch'io la to put in un'ottica di ripartenze piuttosto che andarmi a rincastrare ancora poi sopra ok grazie mille grazie mille stefano quindi andiamo confermare fondamentalmente quell'idea a confermare un po scusate l'idea di andare a lavorare più che altro sul mese di sul mese di marzo piuttosto che il mese di aprile esatto esatto ok quindi andando avanti un attimo un po con la nostra con la nostra sessione avevamo detto diamo un'occhiata anche al dollar index dollar index guardiamolo un momento visto che ha avuto veramente un andamento quasi identico all'oro a un certo momento perché come abbiamo visto aveva toccato dei massimi in area 97 andando un po più indietro comunque se lo guardiamo anche a cinque anni vediamo se ce la fa a caricarmelo eccolo qui avevamo visto che comunque c'era un ulteriore spazio di salita tant'è che un certo punto ce lo aspettavamo proprio sui massimi degli ultimi cinque anni invece dollar index si è un po appiattito diciamo ha trovato un po di pace ecco su questi livelli qui che vanno da 95 a 97 effettivamente quindi trovando un po di pace ovviamente anche i titoli come l'oro come l'euro come l'australiano dollaro bene o male non subiscono più in questo particolare momento l'influsso del dollaro ma bene o male seguono dinamiche un po più normali passate il termine di mercato quindi diciamo le ultime settimane perché queste comunque sono candele settimanali diciamo dal adesso è dal 22 ottobre quindi sono tre mesi che sta trovando un pochettino di pace e non a caso anche l'euro dollaro negli ultimi tre mesi è rimasto molto molto laterale prima di diciamo andare avanti con la sessione e passare la parola a Paolo io in realtà volevo far vedere un paio di cose un paio di di beta trading chiamiamoli così non in azioni in questo caso ma in etf o in cfd per chi gli etf non li può trattare perché abbiamo visto che comunque sono diventati uno strumento istituzionale fondamentalmente che vi volevo mostrare solamente come introduzione una cosa che ho fatto sul mio conto personale quindi me ne prendo totalmente la responsabilità solamente per far vedere come poi le cose che impariamo possono essere veramente riadattate un po in tutto quello che facciamo come sapete io lavoro con una parte del capitale con le opzioni e da un punto di vista un po più speculativo quindi operazioni come abbiamo visto su audi come abbiamo visto sul kc o comunque operazioni di questo tipo dove come vedete insomma pagano delle percentuali piuttosto buone dove l'obiettivo è quel famoso 45 per cento al mese dopo di che ho un altro portafoglio un po più un po più grosso dove lavoro invece sul lungo periodo e sul lungo periodo lavoro con i tf cfd azioni però chiaramente dove gli butto un'occhiata due o tre volte al mese insomma non è un'operatività rapida l'obiettivo è molto più onesto quindi si parla di un un per cento al mese perché quello è un po che io vedo come il mio portafoglio della pensione chiamiamolo così quindi parlavo per l'appunto di due titoli parlavamo scusate dei della situazione relativa ai mercati emergenti che non so perché non mi sta e m ok ogni tanto la piattaforma ci regala questi momenti di emozione però 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 dovrei vederlo comunque nella pagina degli etf a t e c'è sempre il modo di aggiornare il problema e m e vz fondamentalmente ieri sono andato in acquisto ripeto sul mio conto personale come operazione almeno sei mesi di target sono andato in acquisto di vz cioè del brasile eccolo qua che abbiamo visto come titolo più forte diciamo per quanto riguarda i mercati emergenti però siccome non volevo creare una spread particolarmente volatile perché comunque già il brasil è volatile se poi mettevo a shortare anche un altro titolo come ad esempio il messico la corea del la corea del sud piuttosto che la cina ecco diventava veramente uno spread super volatile ho deciso di andare sì in acquisto di di brasile e contestualmente di andare a vendere em che è l'etf o il cfd è la stessa cosa che replica invece l'andamento diciamo dei mercati emergenti da un punto di vista globale ho inserito quest'operazione ieri sera e oggi è partita bene perché comunque stiamo vedendo che brasile sta facendo più del 2 per cento e i mercati emergenti sono sotto l'uno per cento quindi operazione partita bene tra l'altro ulteriore conferma di quanto vi dicevamo nelle passate settimane sul fatto che anche il trend dei mercati emergenti sembra che stia cambiando cambiando è dato proprio da queste giornate oggi vedete i mercati americani un po in difficoltà adesso stavano un po recuperando comunque mediamente in difficoltà nell'arca della giornata invece mercati emergenti stanno reagendo assolutamente assolutamente bene quindi quella situazione che si era venuta a creare l'anno scorso dove i mercati emergenti praticamente venivano stra bastonati rispetto ai mercati azionari diciamo statunitensi piuttosto che europei sembra essere finita altra operazione che avevo impostato questo invece qualche giorno fa sempre in spread riguardava l'acquisto di GLD che è sempre l'etf dell'oro che come vediamo negli ultimi sei mesi è cresciuto molto ma non fatevi ingannare perché se lo guardiamo sui dieci anni togliendo questa barra che non c'entra nulla guardandolo sui dieci anni comunque sia vedete l'oro si sta avvicinando per la seconda volta negli ultimi anni a un livello piuttosto interessante che sull'etf è l'area 130 adesso siamo in area è arrivato fino a 122 piano piano 130 credo che ci potrebbe tornare ovviamente insomma una ripartenza da questi livelli non esclude un'altra sparata di un 25 30 per cento col passare dei mesi quindi sono andato in acquisto di GLD in queste giornate in in cui stava un po scusate in queste giornate qui vedete dove stava comunque lateralizzando e sono andato a vendere argento che negli ultimi che negli ultimi mesi nelle ultime settimane è sempre stato molto più debole rispetto all'oro lo vediamo anche da un punto di vista grafico non tanto negli ultimi sei mesi ma se lo guardiamo anche gli ultimi cinque anni vedete come comunque l'argento nonostante ha fatto una ripartenza decente non è minimamente vicino ai massimi dell'anno scorso cioè dovrebbe essere intorno ai 15 50 16 invece l'argento si è fermato molto prima confermando che per l'appunto è molto più pimpante in questa fase di mercato il nostro oro quindi questa è un'altra operazione che ho impostato voglio che sia solamente ecco uno spunto anche per chi ci conosce meno e ci conosce solamente dal punto di vista speculativo perché non facciamo solamente questo ma curiamo anche i portafogli più di lungo periodo detto questo io andrei a passare diciamo la palla al nostro paolo che non so se sarà d'accordo con queste operazioni però paolo considera che sono ispirate a te quindi prendilo come un buon buon segnale verso il tuo operato grazie ciao andrea buonasera a tutti anche da parte mia guarda in realtà soprattutto quella che hai fatto sui mercati emergenti e l'etf del brasile mi piace molto francamente vorrei valutarla un pochettino meglio anche con calma però secondo me hai avuto una bella idea sostanzialmente quindi arrivando anche un po la parte delle dell'azionario mi permetto di prendermi il controllo dello schermo che così almeno faccio vedere una cosa nuova un po per tutti che in realtà però stiamo utilizzando ormai da diversi anni un po per la nostra clientela ti platinum e questo è il t stocks vedete che ogni operatività viene aiutata viene supportata da un software operativo anche per quanto riguarda l'azionario ormai è diverso tempo che portiamo avanti un po il discorso anche con con questo tipo di software e in particolare volevo analizzare un attimino insieme a voi le operazioni di carattere mensile quindi le ultime sostanzialmente che sono uscite all'interno di del nostro t stocks che sono state proposte in tal occasione volevo proprio mostrarvi quello che è fondamentalmente un po il portafoglio con all'interno queste ultime strategie che sono state quattro in questo in questo da inizio anno sostanzialmente fino fino ad oggi che alla grande stanno andando tutte molto bene nella semplicità diciamo poi dell'operatività perché sostanzialmente questo è un copia incolla quando chiaramente io sono in difficoltà non ho tempo non trovo le azioni eccetera e vado in panico perché quando non trovo qualcosa da fare io voglio avere sempre qualche spunto operativo eccetera mi aiuto con appunto questo software che mi fa risparmiare molto tempo quindi in base un po alle strategie che ci ha offerto ci ha proposto io sono andato semplicemente a prenderle le ho gestite a secondo del mio money management a seconda appunto della quantità di titoli da inserire in in portafoglio per bilanciare la posizione ed ecco qua un bel rendimento praticamente ne ancora fino a mese di un 4,7 per cento che va sovra per formare addirittura il rendimento statistico manuale che solitamente durante nel corso degli ultimi anni sono e siamo riusciti ad ottenere con la parte dell'azionario in particolare mi è piaciuta tantissimo chiaramente un po' per il risultato che spicca sulle altre operazioni quella di procter and gamble che oggi agli earnings oggi agli earnings sta salendo di una di un 6 per cento è una un'operazione che chiaramente ho messo in beta anche questa secondo la proposta nella quale appunto siamo andati a coprire con clx una compagnia correlata a procter and gamble in particolare eccolo qua sul t stocks l'uscita di della della strategia con procter and gamble che potete vedere qua in alto a sinistra e il correlato ovvera ovvero il titolo che possiamo andare a correlare a quello principale che in questo caso era clx il t stocks chiaramente è molto utile perché è chiaro che ti da una vi da un enorme vantaggio dal punto di vista del tempo però mi raccomando prima di arrivare a utilizzare un software di questo tipo sicuramente servono delle regole precise e ferre di money management altrimenti non si va da nessuna parte bisogna essere sempre ben chiari e sicuri di quello che si va a fare e quindi anche queste piccole regole semplicemente per andare a bilanciare delle posizioni servono servono per avere dei risultati detto questo non volevo fermarmi solo all'utilizzo del t stocks e al software volevo lasciare un attimo da parte pacific union corporation che abbiamo visto ieri sera per quanto riguarda la parte diciamo del settore ferroviario e mi scuserete ma vado a utilizzare un attimino la mia piattaforma simulata visto che ho il controllo del mouse per andare sostanzialmente un po' con voi a dare un'occhiata a delle possibili operazioni anche per il prossimo periodo in particolare stavo proprio guardando intanto in tempo reale quella che ha fatto vedere prima il nostro Andrea e chiaramente qua vado a tenere un po' sotto controllo per tutta la clientela anche le operazioni che vado a fare all'interno del trading club quindi mi aiuto con la mia piattaforma di prova e stavo proprio oggi analizzando secondo me una buona operazione che guarderemo un po' più avanti approfondiremo sempre di più anche nel laboratorio operativo perché è un'operazione su cui dobbiamo aspettare ancora un attimino ovvero questo spread tra General Electric e Genese Wyoming che sono sostanzialmente due società che fanno parte del settore industriale come possiamo vedere anche dal riepilogo del titolo di Interactive Brokers sono due società che apparentemente si trovano entrambe in difficoltà ma in realtà General Electric sembra diciamo spiccare un po' di più per una ripresa infatti se andiamo a vedere anche un attimino a livello grafico eccola qua abbiamo visto che l'anno scorso questo è stato un titolo che ha avuto molta molta difficoltà molte difficoltà se non mi sbaglio anche Andrea ne aveva parlato tanto nel trading club e chiedo anche un parere a lui intanto che l'abbiamo qua in linea sì sì Paolo Andrea non solo ne aveva parlato tanto nel trading club ma se ne era pure presa General Electric poi grazie al cielo l'ho smediazzata un po' quando è scesa 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 adesso sono ancora un pochettino sotto ma bene o male siamo nell'area di recupero perché General Electric comunque fondamentalmente tutta questa discesa che aveva avuto è stata più che altro dovuta a un fatto di ristrutturazione aziendale praticamente stavano tagliando quelli che si possono definire un po' come i rami secchi dell'azienda per cercare di concentrarsi diciamo sui rami sani perché comunque parliamo di un'azienda che guardando il grafico sembra sull'orlo del fallimento in realtà un'azienda ha una capitalizzazione di 80 miliardi che lavora in tutto il mondo e che ha uno strapotere a livello mondiale senza pari chiaramente però quando si arriva a certi livelli bisogna poi stare attenti un po' a tutti i settori perché General Electric stava praticamente andando a lavorare su troppi settori contemporaneamente qualcosa ha dovuto tagliare e effettivamente poi dalla fine dell'anno scorso all'inizio di quest'anno ha fatto un discreto recupero praticamente passando da 7 insomma che stiamo guardando fino a 8 e 6 quindi si parla di più di un 20% quindi per quello mi stavo reinteressando perché su questi prezzi sembra essere interessante il titolo guarda allora puoi cogliere proprio la palla al balzo perché anche secondo me insomma è una società che chiaramente ha alte potenzialità è sottovalutata poi dal punto di vista del prezzo perché è una società chiaramente che per le sue attività eccetera merita sicuramente molto di più rispetto alla sua posizione attuale ora come dicevo in questo momento sì a breve termine è sicuramente una società che come potete vedere anche dal MACD dalle bande di Bollinger che comunque ha un carattere e una trend line di tipo rialzista chiaro che arriveranno gli earnings il 31.01 quindi praticamente tra una settimana circa e francamente per questa operatività come ben spiegato anche all'interno della parte del beta trading quando siamo vicini alle notizie so bene che comunque un'operatività magari di medio lungo termine però cerchiamo di non entrare proprio quando c'è la learning sul titolo perché sennò insomma c'è il rischio di prenderselo in faccia perché anche con gli earnings insomma non è facile dare una statistica rispetto alla direzione che potrà prendere il titolo stesso oltre a questo oltre a questa combinazione ho in mente anche una bellissima chicca che vedremo un po' meglio domani nel laboratorio operativo che sarebbe semplicemente sostanzialmente un'assegnazione cioè andare a vendere put, aspettare magari anche l'arrivo degli earnings, farsi assegnare così da avere generale elettrica a un prezzo che sta bene sicuramente a noi e sta bene per una bella ripartenza di tutto il titolo e anche del nostro portafoglio Della parte azionaria è tutto, io vi do, vi aspetto domani alla trading room delle 19.30 e questa sera con il laboratorio operativo del commodity spread trading con Matteo Ciao a tutti e buona serata Ciao